Mercato infuocato, in casa Napoli si lavora per il futuro, si lavora per garantire a Rudi Garcia, una squadra di livello, una squadra che possa portare questo Napoli sempre più in alto. Il Napoli, in questo senso, la squadra azzurra, sta lavorando per rimpiazzare Kim. Il calciatore entro domani sarà ceduto al Bayern Monaco con 18 milioni di euro che i bavaresi verseranno nelle casse del Napoli per pagare la clausola rescissoria che è stata imposta un anno fa all'arrivo del coreano in Italia. Dall'altra parte il Napoli perderà anche Zielinski, il quale è diretto verso l'Arabia Saudita. Con lui potrebbe andare via anche Lozano, il quale ha interesse a non ridursi l'ingaggio, nonostante tra un anno scada il proprio contratto, quindi per il prolungamento vuole le stesse cifre. Dall'altra parte quindi il Napoli deve rimpiazzare questi calciatori e si lavora sul mercato con il DS Meluso che ha quindi il difficile compito di trovare calciatori all'altezza e calciatori che possano fare al caso di mister Rudi Garcia. Un allenatore che quindi ora si ritroverà con la squadra a Di Maro per l'avvio del ritiro che vi ricordiamo seguiremo in diretta a partire dalle 20.30 su Campi Flegre TV con un appuntamento quotidiano fino alle 22.30 per raccontarvi la stagione del Napoli nel suo complesso. E quindi cosa accadrà ora sul mercato? Arriverà un difensore, la pista Itacura si è raffreddata, il DS Meluso lavora su altri fronti, si era pensato anche a Milinkovic Savic per il centrocampo ma è un'opzione complicata anche e soprattutto perché il calciatore è diretto verso l'Arabia Saudita. Vedremo cosa accadrà con un mercato scoppiettante e che sicuramente gli Emirati Arabi condizioneranno in questo senso e che renderanno molto complicato per il Napoli, per le altre squadre in Italia e in Europa. Grazie a tutti.